Non è stata lei in conferenza di Capigruppo a chiedere che si facesse prima le elezioni? Lei c'era? Lei c'era? No, no. Allora, notizia assolutamente sbagliata perché non c'è nessuna elezione del Presidente della Repubblica alle viste. Quindi, se ci fosse l'elezione del Presidente della Repubblica, è chiaro che l'elezione del Presidente della Repubblica domani dovrebbe essere prioritaria rispetto a tutte le altre riforme istituzionali. Siccome attualmente non mi pare che il Presidente della Repubblica abbia dato le dimissioni, il problema non si pone.